Chi è Nadia Toffa? Si domanda il settimanale americano Newsweek che piazza la giornalista come terza nell'elenco delle ricerche sulle persone a livello globale. In realtà fino a 15 giorni fa anch'io mi chiedevo chi è Nadia Toffa perché non ne avevo mai sentito parlare, non avevo mai sentito questo nome. In realtà il settimanale malinterpreta i dati di un colosso dell'informazione che non parla di valori assoluti ma di incremento rispetto all'anno precedente. L'aumento delle ricerche sulla Toffa ha avuto un incremento esponenziale nell'ultimo periodo rispetto al 2016 in relazione al ricovero in ospedale e alla continua ricerca quotidiana dei lettori su internet per conoscere le evoluzioni del suo stato di salute. Come ormai tutti sanno Nadia Toffa è stata colpita da un valore importante e dal momento in cui è stata data questa notizia eclattante di questo valore importante del coma successivo, del suo ricovero in neurochirurgia a Trieste, poi del suo trasferimento sempre in neurochirurgia credo all'ospedale di Milano, dopo quel giorno non si è saputo niente, tranne la notizia che la sera dopo il malore lei era sveglia e seguiva dal suo lettino dell'ospedale la trasmissione delle iene, questa la davano i suoi colleghi e l'altro giorno abbiamo saputo che invece lei era tornata a casa, ma nel frattempo in questi 15 giorni non abbiamo saputo più niente di lei. Mentre all'inizio si parlava di una possibile patologia cerebrale, alcuni parlavano di un aneurisma, altri invece escludevano che si trattava di un aneurisma, abbiamo sentito sempre notizie contrastanti sulla sua salute, notizie contrastanti e poi silenzio e a distanza di 15 giorni ancora non sappiamo cosa abbia avuto, non abbiamo mai più vista, non abbiamo mai saputo un bollettino medico, non abbiamo mai saputo delle notizie vere su di lei. Allora le cose, anche queste ultime notizie che è tornata a casa, che sta bene, che sta bene, non lo so, ma comunque che è tornata a casa, che ancora è sempre lì, che segue le iene dalla televisione, lascia perplessi. Infatti il secolo d'Italia il 13 dicembre scriveva c'è sempre un allone di mistero intorno al malore che ha colpito Nadia Toffa, la conduttrice dell'edizione domenicale delle iene, che in apertura della puntata di ieri, martedì 12 dicembre, la conduttrice Ilari Blasi ha dato per rientrata definitivamente a casa. Poi riassume, no, Nadia Toffa è tornata a casa dopo il malore accusato una decina di giorni fa a Trieste e ricovero prima nel capoluogo friulano e poi a San Raffaele di Milano. Ha dato l'annuncio a Ilari Blasi nel corso dell'ultima puntata delle iene, confermando rumors e tan tan del web. Vediamo una bella notizia, ha detto la conduttrice. Nadia è tornata a casa e ci sta guardando. È in via di guarigione. Ringraziamo tutti i medici che l'hanno assistita. La Toffa, che conduceva prima del malore la puntata domenicale delle iene, il 3 dicembre, giorno dopo il ricovero, aveva inviato un messaggio sui social. Ho preso una bella botta, ma tengo duro. Una conferma dell'entità non proprio lieve del malore che l'ha colpita. Si parla genericamente di una patologia cerebrale, poi più nulla. Silenzio. Foto emblematiche, ma non certo esplicite. E i continui messaggi di auguri per una pronta guarigione inviati da amici e colleghi rimbalzati dalle tv ai social hanno continuamente evocato la presenza della guerrita Iana Bionda, veramente assente dalle scene dal giorno del ricovero. sa dare informazioni più circostanziate sulla sua convalescenza, alimentando ipotesi e supposizioni e, di fatto, curiosità e rumors. A questo punto noi sappiamo che si sa cosa l'abbia colpita. Si sa e non ci viene detto e non viene detto. Allora ci si può barricare dietro il fatto che c'è una privacy e dobbiamo essere protetti. Certo che per un personaggio pubblico è un po' difficile godere della privacy che ha le persone normali, specialmente dopo che si è dato una risonanza di questo tipo, come è stato dato nel caso della Toffa, nell'esordio della sua malattia, del suo malessere. Per curiosità, insomma, anche il Papa serva, di cui non ha goduto però neanche il Papa. Più personaggio pubblico di lui, insomma. Leggevo una notizia ancora di tanti anni fa. Ancora paura per il Papa operato d'urgenza a Roma. Dovrà tenere il brasso immobile per 40 giorni. Un violento strattone e la spalla torna a posto. Roma. Lussazione traumatica anteriore della spalla destra con coesistente frattura parcellare della glenoide. E' la diagnosi di entrata registrata ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli per Giovanni Paolo II. Voi capite come la notizia della patologia riscontrata fosse stata messa immediatamente in luce, insomma, non ne fosse stata data in maniera molto precisa, insomma. Lussazione traumatica anteriore della spalla destra con coesistente frattura parcellare della glenoide, insomma. Noi non abbiamo avuto a disposizione nessun dato fatto che all'attacca si sia riscontrato che era negativo, che non c'era assolutamente niente, che invece c'è stata un'emorazia suberecnoidea, che non c'è stato niente, che c'è stata un'emorazia di qualche altro tipo, che c'è stata una patologia di un altro tipo ancora, è stata accertata una diagnosi. Perché è chiaro che, insomma, se non c'è una diagnosi non si può fare neanche nessuna riserva dal punto di vista prognostico, no? Un conto è dire sta bene a uno che ha avuto, come dire, un episodio lipotimico e poi si è ripreso. Un conto è dire sta bene per uno che magari ha avuto un ictus e che poi, sì, magari riprende la vigilanza, ma rimarrà paralizzato probabilmente oppure verrà con una situazione di deficit legata poi alla sede di dove c'è stato lo spandimento. Insomma, è diverso. Un conto è dire non è in pericolo di vita, se sappiamo che è una cosa che ha avuto un episodio momentaneo ma che non ha lasciato nessuna trazza, oppure un conto è dire non è in pericolo di vita per uno che magari, che so io, è in coma vigile, no? In coma vigile anche uno può stabilizzarsi, non essere in pericolo di vita, ma in realtà non avere neanche più le funzioni, l'uso delle funzioni superiori cerebrali. È difficile farsi un'idea di questa cosa. Quello che noi sentiamo però è la contraddizione, no? È l'omissione che fa sospettare dell'informazione. Si chiede perché, cioè a cosa serve? È soltanto un rispetto della privacy? Oppure nasconde qualcosa di più grave? Nasconde il fatto che quello che è successo è stata una cosa importante e non la si vuole far sapere? E perché? È anche difficile farci un'idea sul perché non la si voglia far sapere. Deve dare, come dire, valore a quello che è stato detto di quel giorno del 3 dicembre, insomma, del giorno dopo, no? E cioè che ci sia stato un coma che ha durato un po' di tempo e che poi poco dopo abbia ripreso una certa funzionalità cerebrale, tanto che l'hanno ripresa con le dita alzate, senza far vedere la faccia. Anche quella, una foto, insomma, lascia un senso di facevole, insomma, diciamo così. Se è così, questo potrebbe essere giustificato, per esempio, con una monologia subaracnoidea, no? Può dare una perita coscienza, un coma nella fase, poi può dare una certa ripresa. Il problema è che se la ripresa fosse rimasta, cioè se lei poi fosse rimasta vigile, eccetera, non avrebbe bisogno di essere stata trattenuta in una rianimazione neurochirurgica, finita in una sala d'ospedale, probabilmente, insomma, o in una camera privata, insomma, vista la sua popolarità. Ma, insomma, delle notizie che stava bene le avrebbe date, le avrebbe fatte trapelare, no? Il fatto che invece non sia trapelato niente fa pensare che le sue condizioni, dal punto di vista psicico, non fosse stata la sua condizione da permettere un'adegenza extra rianimazione. Allora, in questo caso, visto che si era ripresa, viene a pensare che alla ripresa si è succeduto un successivo, si è succeduto un aggravamento. Se è stato così, quando c'è un aggravamento dopo una ripresa di coscienza legata a un'emorragia cerebrale, beh, insomma, la prognosi non è molto favorevole. Come è stata portata avanti la notizia, condotta la notizia, questo fa pensare che abbia avuto una ripresa, quando ha scritto poi su Facebook quello che ha scritto, non so se lei, insomma, mi avrà fatto scrivere da qualcuno, insomma, no? E poi ci sia stato un ulteriore aggravamento, insomma, proprio perché c'è stato un aggravamento successivo a quella notizia tranquillizzante che è stata data all'inizio, non sia stata più fatta poi informazione su di lei, no? Si siano chiusi tutti i rubinetti e non sia trapelato niente altra cosa strana, no? Com'è strano il fatto che adesso sia tornata a casa, tornata a casa senza che nessuno si sia accorto che nessuno abbia visto, che non sia trapelata nessuna indiscrezione dal portiere di casa, da qualsiasi, insomma, che lei stia bene, stia a casa, stia guardando la televisione. Lei è la persona, diciamo, che ha avuto il maggior incremento di ricerche sul motore di Google, insomma, no? Quindi così cercato, così al centro dell'attenzione che ha suscitato così tanta curiosità, che non dia una notizia a lei tranquillizzante oppure che non sia stata data dai medici che l'hanno seguita, insomma, no? Magari con un accenno di diagnosi, perlomeno tranquillizzante, non si vuole entrare nello specifico della patologia, ma almeno, insomma, a grosse linee far capire che questa patologia non c'era, ma in realtà non è stata neanche esclusa del tutto una patologia, mai a livello ufficiale, no? Come non è stata data una notizia, c'è un'emorragia cerebrale, non è mai stata data neanche una notizia certa da persone documentate per dire non c'è. Quindi è sempre stato lasciato così, insomma, molto all... nell'assolutamente vago, insomma, no? E come il portavoce, insomma, della condizione, come siano i suoi colleghi poi ad essere il portavoce del suo stato di salute, anche questa è una cosa abbastanza insolita, è abbastanza originale. Allora, conduzione, nell'informazione, le contraddizioni che poi ci sono, no? Perché fin dall'inizio c'era chi diceva patologia cerebrale, sì, patologia cerebrale, no? Un personaggio poi che, sì, insomma, è un personaggio che ha probabilmente un suo rilievo nel mondo della televisione, insomma, è conosciuto da chi segue la televisione, ma non è un personaggio, insomma, che sia destinato a lasciare un grande disegno, il suo passaggio, insomma, nel senso che, insomma, mi viene in mente Taricone, insomma, no? Personaggi che sono creati dal mondo dello spettacolo, insomma, ma che non hanno nessuna... nessuno spessore particolare, insomma, per essere ricordati, insomma, non hanno fatto niente di particolarmente importante e che vada, sì, il segno della loro presenza, insomma. Il personaggio pubblico, sì, insomma, come tutti quei personaggi, insomma, di scarso spessore che la televisione crea in continuazione e che nel momento che come li crea anche li lascia, insomma, di cui poi nessuno poi si ricorda, insomma. E ci sono finché ci sono, insomma, finché l'attenzione, finché lo spettacolo in qualche modo li mantiene a galla. Questa riserva non si capisce. Se si vogliono dare delle notizie tranquillizzanti, si danno delle notizie tranquillizzanti serie. Si dice che è stata esclusa ogni patologia e quindi le sue condizioni adesso sono tali per cui è a casa. Ha tutto l'interesse, secondo me, a far vedere che sta bene, no? Che ritornerà. Visto che lo dicono, tanto vale che lo mostri, che lo dimostri, insomma, no? Che si faccia vedere, insomma. Siamo nel mondo dell'informazione, no? Appartiene a quel mondo che andava a strappare probabilmente le notizie, le informazioni che magari volevano rimanere riservate, insomma, no? Quindi qualcuno che vada a strappare queste notizie, altro per dimostrare effettivamente che sta bene. E invece rimane questo sospetto, insomma, no? Chi è? Chi è questa Nadia Toffa, insomma? Che segreto nasconde? Cosa c'è dietro queste cose? Ecco perché un po' il mondo, secondo me, il mondo, insomma. Come questa vicenda si chiede, ma non è il pretesto, secondo me, insomma. È il pretesto per vedere come si comporta questo mondo dell'informazione, insomma. Ma si scatena e poi, come dire, poi lascia un silenzio assurdo dopo che ha tirato la curiosità. Questo silenzio non fa che poi peggiorare, nonostante notizie che possono apparire tranquillizzanti, ma che non sono verificabili. Non fa altro che, come dire, che creare maggior sospetto, insomma. E eufemismi. Quando dice Nadia Toffa non sta bene. No, non sta bene. Non è che non sta bene. È stata proprio male, insomma, almeno quando l'hanno ricoverata in rianimazione. Si può dire non sta bene, insomma, è più un eufemismo. Dice non è più in pericolo di vita. Vuol dire che ci lascia capire che in pericolo di vita lo è stata, ma in realtà non c'è mai stata un'informazione precisa che ci abbia detto perché era in pericolo di vita. E quando dai un'informazione in pericolo di vita, allora tanto vale che dice anche cosa è successo, insomma, se no stai zitto completamente, no? Essere più in pericolo di vita, ripeto, può avere tanti risvolti, insomma. Può non essere più in pericolo di vita anche chi ha avuto una grave paralisi, insomma, no? Chi è rimasto gravemente cerebroleso. Una volta che si è stabilizzato non può essere più in pericolo di vita. Anche qua come è stata data la notizia? Perché già il giorno dopo si diceva era stata sciolta la prognosi. Qualche giornale diceva una cosa di questo tipo, insomma, no? E questo era ovviamente una situazione, era una notizia azzardata rispetto a come era stata data la situazione. Quindi tante contraddizioni. In Sirpete si riprende la domanda, insomma, ma chi è Nadia Toffa? E che cavolo lei è successo? Perché non date una volta, una volta che avete buttato la bomba. Non vi assumete anche la responsabilità di dare sul caso un'informazione seria, documentata, insomma. Oppure non buttatele fin dall'inizio alla bomba, insomma. State zitti. E come per ogni persona normale che sta male, fa il suo decorso, sta nella sua privacy e non se ne parla.